Un canto di Natale processo al consumismo da Charles Dickens, è un lavoro del collettivo artistico Progetto Nickel, coprodotto da Casa del Contemporaneo e Teatro San Nazaro, un progetto che prevede due spettacoli praticamente identici, identici nella regia, nella drammaturgia, nell'estetica, che debutteranno la stessa sera, le stesse date, gli stessi orari, il 10, l'11 e 12 marzo al Teatro San Nazaro, con un cast completamente al maschile e in sala a soli, con un cast completamente affemminile, è un'indagine, è un processo, un processo al consumismo, l'imputato di questo processo, di questa indagine è la società dei consumi, quindi praticamente noi.